Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è come ben saprete il nuovo giovane volto del programma condotto dalla famosissima Maria De Filippi, il quale ci ha fatti sognare tramite ogni sua esibizione, è proprio lui Nei mesi passati all'intento della cassetta del talent nessuno avrebbe scommesso più del dovuto su di lui ed anzi, in molti si aspettavano un percorso completamente diverso Dopo tanta fatica ed impegno però è riuscito a mostrare ciò che davvero lo rappresenta La sua vicinanza ai compagni di viaggio, il suo modo particolare di fare, la sua umiltà e la sua semplicità hanno conquistato tutto il pubblico facendolo innamorare perdutamente di lui Ad oggi appunto vi sono innumerevoli persone che stimano ed ammirano incredibilmente il giovane talento Dopo la vittoria del programma la sua vita è ovviamente cambiata, quello che prima gli appariva come un sogno irrealizzabile oggi è realtà e lui si impegna ogni giorno per far sì che tutto questo non finisca mai Lui oggi si può identificare finalmente in un cantante professionista, ed anzi i numeri degli ascolti parlano chiaro Sta infatti ottenendo un successo incredibilmente sorprendente Nelle ultime ore ad esempio, ha ottenuto un risultato mozzafiato Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente Luigi di Amici ottiene tutto, dopo la vittoria del programma segna nuovamente la storia, i dettagli Come vi abbiamo già anticipato dalla vittoria del programma la sua vita ha preso una strada del tutto diversa Lui oggi continua a scrivere e realizzare dei capolavori incredibilmente unici Per questo motivo infatti continua a scalare le vette del successo ottenendo dei numeri da fare in video Solo qualche ora fa ha ottenuto un risultato mai visto.A comunicare questo suo successo è stato proprio il suo professore del programma, ovvero Rudy Zerbi, il quale ha continuato nel tempo a seguire ogni sua mossa per indirizzarlo sulla strada giusta L'annuncio è stato fatto su Instagram e per comunicarlo il professore ha utilizzato un'immagine del ragazzo scrivendo Primo in classifica album Fimi direttamente alla prima settimana di uscita dell'IP Ma quanto siamo tutti fieri di te.Bravo Luigi Ebbene sì, oggi lui è il primo in classifica e ciò significa che ogni suo sacrificio ed ogni notte insonne lentamente sta ottenendo i risultati che Luigi sogna da quando era solo un bambino Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione